Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, rispondo ad una signora di Montpellier in Francia che mi chiede cosa può fare per sua figlia che ha ansia, ha provato di tutto, la figlia non ne vuole sapere non vuole andare in giro, non fa nulla e però ha quest'ansia che certe volte gli dà quasi quasi l'impressione che sfoci in attacchi di panico ha provato a portarla da qualche professionista ma non ci riesce, la figlia non ne vuole sapere allora io le ho consigliato il metodo DCS, visto che mi ha visto su dei video l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola che non richiede né la volontà né la partecipazione è semplicissimo, la prova di un nonno, la prova di un piccolo, la prova di un idiota e basta scaricarsi anche un audio MP3 DCS dal titolo No Ansia, No Panico che trovi sul sito della mia associazione Ipnology Associati Los Angeles Beverly Hills e tu vedrai veramente questa bambina, ma chi per lei e anche per te se hai questo problema di ansia o di panico o di angoscia, insomma di paura, ricamale e declinale in tutti i nomi immaginabili e possibili perché dal tuo subcosciente parte l'ansia, la paura sarà stato il tuo passato negativo, sarà stato un tuo amico, sarà stata un'immagine alla tv è soltanto il tuo subcosciente che conosce la causa ma anche la soluzione e può fare il miracolo della tua stessa mente se rifletti la parola paura, ansia, ha un significato ancestrale, antichissimo che serve per difenderci da un eventuale pericolo però nel mondo di oggi, con la televisione, con tutte le immagini, i film, i TG paura che ci nutrono, che ci ipnotizzano negativamente di una sola e unica radice comune che è la paura, l'ansia pochi ragazzi, poche persone adulte, bambini, adulti, anziani sono esenti, sono immuni se rifetti soprattutto in questo periodo di covid, di coronavirus, di bombardamento mediatico e sciacallaggine pura, come fai a non avere paura? proprio oggi ho parlato con una persona ammalata di tumore la quale giustamente mi diceva come si fa a non aver paura con quello che si vede, si sente in giro ecco la verità io personalmente ho aiutato centinaia e centinaia di persone nel mondo ad eliminare l'ansia e anche il sottoscritto vale a dire a me stesso in tempi non sospetti avevo l'ansia avevo un peso, una mancanza di respiro al centro del petto mi svegliavo la mattina che le mie mani tremavano e compagnia bella oggi, grazie all'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola di Los Angeles David Hills ho risolto al 101% il mio problema di ansia solo a te la scelta ok, il metodo di ICS è l'unico al mondo che funziona anche per chi non vuole essere aiutato chi non può essere aiutato fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni visita il mio sito internet www.iprolegiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi e auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di ICS del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita radicalmente e seguimi per favore anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di ICS del dottor Claudio Saracino un bacio e un abbraccio amico mio amica mia dal dottor Claudio Saracino alla prossima ciao